Ambizione, sete di potere e di conquista, congiure e sanguinosi assassini, ma anche eccezionali trionfi dell'architettura e dell'ingegneria. Su queste basi fu costruita la grandezza di Roma. I Romani erano un popolo con un forte senso di appartenenza. In tutto l'impero sorsero monumentali anfiteatri e maestosi palazzi. Furono costruite strade e acquedotti. In ogni territorio colonizzato, i Romani portarono la propria civiltà. I colossali edifici, le strade e gli acquedotti divennero il simbolo di Roma. I grandi imperatori che si avvicendarono attraverso i secoli contribuirono alla costruzione di nuove opere architettoniche. Ognuno di loro lasciò nell'antica Roma il proprio segno indelebile. Ma se torniamo indietro nel tempo, alle origini della città, che si collocano tra IX e VIII secolo a.C., ci sembrerà quasi inverosimile che da un piccolo villaggio di capanne sorto sul Palatino sia nata una grande potenza. Eppure è così. Ecco come appariva la pianura di Roma otto o nove secoli prima della nascita di Cristo. Niente case o città, solo un'ampia distesa, spesso paludosa, percorsa dal Tevere. Molti boschi erano già stati tagliati dai primi abitanti. Avevano occupato le cime dei colli di Roma, cominciando dal Palatino. Erano piccoli villaggi di capanne di fango, con tetto di paglia. Palizzate cinte di tronchi li proteggevano da attacchi improvvisi. Qui li abbiamo chiaramente rappresentati in modo schematico. Solo poche tracce archeologiche sono state rinvenute, ma sono sufficienti. Proprio così doveva apparire Roma a quell'epoca. Roma non nacque dal nulla, ma in un contesto molto particolare che ne favorì lo sviluppo, l'ascesa e l'affermazione prima su tutta la penisola italica e poi oltre nel Mediterraneo. Quali erano le caratteristiche peculiari di tale contesto? Quali fattori fecero sì che una città diventasse, a partire dal V-IV secolo a.C. fino al I d.C., padrona di un impero vastissimo? Una prima risposta sta proprio nell'analisi del contesto in cui Roma si sviluppa e si afferma, il contesto dell'Italia tra VIII e VII secolo a.C. l'Italia pre-romana. La chiave del successo di Roma sta anche nel contesto geografico e culturale in cui la città ebbe modo di affermarsi. Chiediamoci prima di tutto a che epoca risale il popolamento della nostra penisola, in che modo e con quali tempi si verificò e quali erano le popolazioni che si erano stanziate in Italia a partire dalla fine del Paleolitico e che erano presenti nella penisola intorno al IX-VIII secolo a.C., l'epoca della fondazione di Roma.